buongiorno e benvenuti a tutti topolino e chi non conosce quell'adorabile topolino della disney dalle orecchie giganti beh sì potrai anche essere un suo fan scatenato ma sicuramente i segreti che ti svelerò oggi saranno nuovi anche per te ebbene sì nonostante possa sembrare assurdo anche il personaggio di topolino è ispirato ad un topo realmente esistito lo stesso wall disney in un'intervista informale raccontò la storia del vero topolino che ispirò il personaggio animato mi affezionai particolarmente a un topo domestico marrone era un piccoletto timido toccandolo sul naso con la matita lo addestrai a correre all'interno di un cerchio nero che avevo tracciato sul mio tavolo quando me ne andai da kassans city per tentare la fortuna a hollywood mi dispiacque lasciarlo così lo portai in un cortile facendo attenzione che fosse un bel quartiere e il piccoletto domato corse verso la libertà quando nella primavera del 1928 walt disney ideò il piccolo topo simile e opposto al gatto felix che a quei tempi domava quasi in contrastato la scena del mondo dell'animazione pensò bene di battezzarlo mortimer mouse si racconta che fu proprio la moglie a suggerirgli che il nome forse era un po troppo lugubre per i bambini spingendo walt ad optare per il definitivo mickey mouse tra il bozzetto e l'animazione c'è di mezzo il lavoro in questo caso un gran lavoro tutto fatto a mano la nascita di mickey avvenne in un garage nella massima discrezione della notte per mano di walt e del suo collaboratore a buy works autore di quasi 700 animazioni al giorno necessari per dar vita alla futura stella il primo corto in cui appare topolino si chiama all'aereo impazzito cui segue il 18 novembre 1928 il celebre steamboat willy vagamente ispirato a una pellicola di buster keaton da questo momento inizia una serie di crescenti successi fino al 1932 anno in cui disney ricevette un oscar speciale proprio per la creazione di topolino fu quest'episodio a destare l'attenzione di tutto il mondo su questo personaggio che di lì a poco sarebbe sbarcato in italia con un giornale illustrato tutto per sé una delle caratteristiche tipiche di topolino oltre alle celebri orecchie sono le quattro dita per mano che dal 1929 saranno infilate per sempre dentro gli ultrafamosi guanti bianchi se siete tra quelli che si chiedono perché abbia quattro dita anziché cinque la risposta è semplice in questo modo era più facile disegnarne i movimenti i guanti servivano invece a distinguere meglio le mani bianche dal resto del corpo nero nei primi anni il giovane mickey mouse non era dotato di parola nel 1929 il mondo sentì la sua voce per la prima volta nel corto the carnival kids quando disse hot dogs sapete invece chi interpretò la voce di topolino e di mini per tutti i film fino al 1946 walt disney in persona a proposito di mini nota all'inizio come mini mouse ebbene no se ve lo state chiedendo i due non si sono mai sposati o quantomeno mai nello schermo perché disney disse in qualche circostanza che lo erano in compenso i due festeggiano gli anni nello stesso giorno essendo nati nella stessa opera d'esordio nel 28 quando uscì nel 1933 il primo orologio da polso con le lancette di mickey mouse costava 3 dollari e 75 centesimi oggi lo stessissimo orologio se originale è valutato intorno ai 6.000 dollari solo un esempio della potenza di topolino considerata da forbes il personaggio di fantasia più redditizio della storia nel 2004 mickey generava da solo ricavi di 5,8 miliardi di dollari all'anno tutti i luoghi targati disney celano i tre cerchi che formano le celebri orecchie in posti a volte evidenti altre volte impensabili stessa cosa per le pellicole della disney dai classici in poi dove quasi sempre figurano le celebri orecchie nascoste si stima che esistano almeno mille topolini nascosti ma il numero esatto è sostanzialmente un mistero time magazine ha definito le orecchie di topolino come una delle più grandi icone del ventesimo e del ventunesimo secolo non si stupisce che oggi quelle orecchie vantino 3,4 milioni di like sulla fanpage di facebook un posto nella walk of fame di hollywood e un fotoritratto con quasi tutti i presidenti degli stati uniti con questo concludiamo se il video ti è piaciuto allora lascia un bel like iscriviti al mio canale e noi ci vediamo in un prossimo video a presto